Noi amiamo regalarti il piacere di tornare a casa. I nostri prodotti si identificano con i sogni e le passioni di chi li sceglie. Ceramiche Benuzzi, quando pavimenti e rivestimenti sono un esercizio di stile. Perché la casa è il racconto della nostra vita. Vesti la tua casa con le grandi firme italiane. Siamo in via del Maccabreccia 25B a Lippo di Calderara. Telefono 051 72 67 22 www.ceramichebenuzzi.it Grazie per la visione! Grazie per la visione! Nuova puntata di Io Abito. Io sono Delisa Merli. Anche questa sera vi porteremo a casa dei personaggi bolognesi. Vi faremo un progetto. Vi spiegheremo delle cose di design. E tutto quello a cui ormai vi abbiamo abituato. Il personaggio di questa sera ha a che fare con il cinema. Come potete vedere da questo libro, che è un classico, Storia Generale del Cinema, di George Sadul. Sarà un attore, un regista oppure Vittorio Boarini? E' Vittorio Boarini. Guarda, è proprio Vittorio Boarini. Che è molto a che fare col cinema senza essere né attore né regista. E ha avuto a che fare col cinema fin da quando era bambino. Allora Vittorio, comincia con il raccontarci come è nato il tuo amore per il cinema. Ecco appunto, come tutti i bambini, io amavo il cinema, ma non potevo frequentarlo se non sporadicamente perché c'era la guerra. La mia infanzia è stata, io sono nato nel 35, quindi ho vissuto gran parte della mia infanzia. Ecco che c'era la guerra. E il cinema era una mia passione, ma che non potevo praticare per varie ragioni. Quando ecco che il giorno della liberazione è stata la liberazione di tante cose, compreso la mia liberazione del desiderio di cinema. Perché? Perché io avevo nove anni e mezzo quando la guerra è finita. E' finito un incubo, è finito il fatto che scarseggiava il cibo, che scarseggiava il riscaldamento, che il babbo poteva non tornare a casa perché i tedeschi avrebbero potuto rastrelarlo, eccetera, eccetera. Si poteva morire sotto un bombardamento. Ecco, finisce questo incubo e tutti hanno voglia di divertirsi. Tutti hanno voglia di divertirsi, ma le mie cuginette più adulte di me e altri amici si divertono andando a ballare. Il ballo era una delle cose più freneticamente frequentate. Ecco, no? Io avevo nove anni e mezzo e non andavo a ballare, ovviamente. Però anch'io volevo alla sera partecipare alla gioia generale e fare cose che non avevo mai fatto. E allora cosa che non avevo mai fatto era andare al cinema tutte le sere da solo. Da solo andavi? Da solo, perché qui, da questa casa, ci sono due cinema, uno più vicino dell'altro, posti esattamente a destra e a sinistra della casa. Uno è il Cinema Roma, via Fondazza, che poi, è vero, avrà una storia di cui io farò parte. E il Cinema Rialto, che allora si chiamava Carducci, Cinema Carducci. Erano i cinema cosiddetti di ulteriore visione e lì facevano cinema tutte le sere, cambiando ogni sera il film. Allora io una sera andavo a Roma, una sera andavo al Carducci, come si chiamava allora. E ho visto tutto il cielo americano che arrivava a pacchi, a valanghe, perché il cielo americano durante la guerra praticamente non arrivava più. C'era più. Quindi arrivavano tutti i film americani. Irrivavano tutti i film americani e quindi questa età d'oro di Hollywood, anni, seconda metà degli anni 30, diciamo, no, anni 40, finalmente arrivavano con tutti gli attori e le attrici che ci mandavano in visibilio, perché c'era Gary Cooper, perché c'era Ron Flynn, perché c'era Claire Gable e poi le attrici. Non dico la Greta Garbo che già non faceva più film e dalla quale io ho visto in quell'epoca non soltanto di Nozica, ecco perché ormai non faceva più film Barbia Landitrix, sì e poi dopo le altre dive che arrivavano e che a noi ci lasciavano stupefatti, come la Rita Eilworth, che è stata una mia passione, ecco, no, una mia passione. Allora, che cosa succede questa cosa? Che l'andare al cinema coincide con un'epoca di grande felicità, perché stiamo andando verso l'estate e fino all'ottobre successivo a scuola non si va. La guerra è finita, l'incubo dei bombardamenti è finita, quando il babbo tarda si vede che si è fermato a chiacchierare con gli amici e non l'hanno portato in Germania, si riesce a mangiare sufficientemente, le truppe alleate, gli americani in particolare, hanno portato il cioccolato, hanno portato la cervigomma, hanno portato questa cosa. Ecco, e assieme a questa idea, a questo sentimento di liberazione, c'è il cinema. Come momento mio, personale, di scelta e di una attività che mi dà una grande soddisfazione e mi riempie la vita. E quindi poi diventa per te il tuo lavoro, quindi la passione che diventa il tuo lavoro, e per il cinema e con il cinema, tu per questa città hai fatto tante cose. Ho fatto molte cose e lei perché ho potuto farle e perché anche probabilmente le ho fatte bene? Ecco, perché mi piaceva farle, perché avevo soddisfazione a fare, avevo piacere a farle. Il, diciamo, il dovere del lavoro coincideva col piacere di fare quel lavoro. A cavallo degli anni Sessanta diventa assessore alla cultura Renato Zangheri, il quale è un uomo moderno, di larghe vedute, il quale pensa che il comune, come si occupa di teatro e di arti figurative, debba occuparsi anche di cinema, dando un po' scandalo anche fra i suoi colleghi, eccetera, no? Però, pensa che si debba occupare anche di cinema, è all'idea di costituire una commissione consultiva che debba suggerire al comune che iniziative prenda nel campo della cultura cinematografica. Questa commissione è preseduta da quello che io reputo un genio, che questa città non onora e non ricorda forse più, che si chiama Pietro Bonfiglioli, che era un letterato e un critico d'arte e un critico cinematografico, il quale assunse la presidenza di questa commissione, nella quale ci stavano tutti coloro che a Bologna si occupavano di cinema. Renzo Renzi, che era un altro genio straordinario. È stato uno dei tuoi maestri, giusto? È stato sicuramente uno dei miei maestri, lunghe conversazioni fatte con Renzi. Sicuramente mi hanno insegnato tantissimo, tantissimo. C'era Dario Zanelli, che è stato il critico cinematografico del Carlino per una vita. Altri critici cinematografici della RAI, il presidente del Cineforum, Galletti, Vincenzo Bassoli, che era un docente, un preside di scuola media, ma che era il vice critico cinematografico dell'Avenire d'Italia, che allora si stampava a Bologna e il cui titolare della rubrica cinematografica era Cavallaro, purtroppo morto precocemente, ma una testa cinematografica straordinaria. Nell'ambito di questa commissione io ne sono il segretario, con delle funzioni anche tecnico-organizzative e poi con la funzione di raccordare l'attività di questa commissione, che erano tutti i liberi professionisti o che facevano altri mestieri, di raccordare l'attività di questa commissione con il comune stesso, con le possibilità operative che il comune poteva offrire loro. E così nasce il progetto della Cineteca. Così nasce il progetto della Cineteca, che da subito è un progetto molto illuminato, perché? Perché non pensa alla Cineteca come una semplice raccolta di film, che pure ci deve essere ed è fondamentale, ma pensa alla Cineteca come una raccolta di film, una grande biblioteca di cinema, una grande raccolta di fotografie di cinema, una raccolta di manifesti di cinema e una sala per proiezioni, perché è una Cineteca. Già allora noi capivamo, capivano questi signori che una Cineteca deve avere una sua sala. Momentaneamente utilizzammo il Cinema Roma, messo a disposizione da quel gestore illuminato che era Gigi Pizzi, il nostro Gigi, che era il gestore del Roma e del Furgore, che mise a disposizione il Cinema Roma per fare un Cinema de Sé, che è durato per tanti anni, per 35 anni, fino a che non abbiamo fatto il Lumière, cioè il cinema vero e proprio della Cineteca, che adesso esiste in due sale, sta in Azzogardino, eccetera. Ma ci sono tanti film che sono in cattive condizioni, anche dal punto di vista filologico, perché sono andati persi dei fotogrammi, perché il film è stato tagliato dalla censura ed è rimasto così tagliato, perché il film ha avuto varie edizioni e noi ne possediamo solo una che non è quella completa o filologicamente corretta. Allora dobbiamo spingere il restauro ad essere un restauro in senso forte, cioè a essere un restauro di tipo storico-filologico che ci restituisca il film, così come il regista l'ha voluto. Come si può ottenere ciò? E avendo un laboratorio di restauro di buon livello, ecco, e noi pensiamo alla fine degli anni Ottanta di dotare la Cineteca di un laboratorio. Un'impresa ambiziosa e rischiosa, perché? Ma perché per dotare la Cineteca del laboratorio noi abbiamo rischiato di spendere soldi che non avevamo, cosa che in un ente pubblico è vietato per legge, è un reato spendere i soldi, promettere ad uno che gli avresti dato dei soldi che non hai, è vero, se ti dava delle macchine, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo pensato che questa era un'impresa che si doveva fare, che era un'impresa destinata al successo e che avrebbe fatto compiere un salto di qualità alla nostra Cineteca, cosa che in effetti avvenne. avvenne, infatti, dal momento in cui e siamo all'inizio degli anni Novanta il laboratorio entra in funzione e la considerazione della Cineteca di Bologna presso gli altri archivi sul piano internazionale cresce a dismisura. E dopo poco, e dopo poco, il direttore della Cineteca di Bologna che ero io, entra nel direttivo della FIAF che è la Federazione Internazionale delle Cineteche e acquisisco sempre più influenza e autorevolezza nell'ambito internazionale grazie al fatto che la Cineteca ha un laboratorio in grado di fornire dei restauri cinematografici di altissimo livello. La Cineteca di Bologna, scusa se si interrompo, è la più importante istituzione mondiale di restauro di film e non esagero. Quindi questa eccellenza che abbiamo in città la dobbiamo a Vittorio Boarini alla sua capacità di ampliare il progetto della Cineteca che peraltro hai curato fin dall'inizio. C'è una cosa divertente che tu mi hai detto quando sei stato mio ospite in radio, credo, o in un'altra occasione, che in Comune si diceva Boarini? Ma sì, ma quello va sempre al cinema. È vero, è vero. È vero, questo per dire, io lo dico con benevolenza, non gliene voglio mica i miei colleghi perché li capisco benissimo. Pensate voi in un Comune negli anni Sessanta dire che il Comune, a parte il fatto che negli anni Sessanta il cinema andava ancora benissimo, i cinema erano pieni, cioè si chiedevano ma il Comune perché deve occuparsi di cinema? Il cinema va per conto suo, il Comune è qui per occuparsi dell'anagrafe, del cimiteri, delle strade che non debbono avere dei buchi, eccetera, eccetera, ma perché dobbiamo occuparsi di cinema? Questo avveniva sia a livello politico con Zangheri, che i suoi colleghi assessori dicevano ma insomma ma cos'è questa storia? E anche a livello dei funzionari, tutte brave persone e che erano anche degli amici, però loro onestamente dicevano ma cosa fa Boarini qui in Comune e sempre al cinema? Perché il cinema? Lo si pensava come un divertimento, uno dice va al cinema, beh va a divertirsi, non è un lavoro. E invece Boarini andava molto al cinema perché poi ha creato questa istituzione che ripeto è una delle più importanti, se non le più importanti. È una delle più importanti, in questo campo è sicuramente una delle più importanti come dimostra il fatto a livello internazionale come dimostra il fatto che la fondazione che si occupa di restauro a New York di Martin Scorsese ha fatto praticamente un gemellaggio con Bologna, insomma che le cose le fanno assieme a Bologna ecco che quindi Martin Scorsese che è stato uno dei primi grandi a richiamare l'attenzione del mondo cinematografico sul problema del restauro e sul fatto che i film vanno curati, vanno restaurati, eccetera, è stato uno dei primi e quindi lui poi ha fondato una istituzione che si occupa di restauro del film e lui non ha trovato di meglio ecco che collegarsi con la Cineteca di Bologna per i migliori restauri che lui fa. Allora, Vittorio ha tantissime cose da raccontarci ancora però per questa sera il tempo è finito qua. Quindi Vittorio, io torno perché dobbiamo parlare poi di quando sei diventato direttore della fondazione Fellini. quando sono andato in pensione dice quando sono andato in pensione perché ha 65 anni nei luoghi pubblici non so adesso non so più più passato ma a quell'epoca lì a quell'epoca lì a 65 anni dicevo tu vai in pensione ma no ma io posso stare ancora qui no 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 qui tu non ci stai più perché sei andato troppo al cinema a 5 anni sei già stato troppo al cinema adesso vai ecco quindi io alla fine del 2000 esattamente il primo dicembre dell'anno 2000 io sono andato in pensione il primo febbraio del 2001 ero direttore della fondazione Fellini di Rimini allora però qui ci fermiamo Vittorio perché allora torniamo in una delle prossime puntate da Vittorio parleremo della fondazione Fellini della tua esperienza in questa istituzione dove hai fatto tantissime cose adesso io vi saluto saluto Vittorio vado in studio a continuare la trasmissione e poi più tardi quando ho finito di registrare la trasmissione andiamo al cinema perfetto ottimo andiamo a vedere sai cosa andiamo a vedere stasera andiamo a vedere quando c'era Berlinguer il film di grande andiamo a vedere quello adesso vado in studio grazie Vittorio ciao grazie a te ciao Silvia eccoci di nuovo qua ciao dove sei andata oggi? sono andata questa volta al sole non alla nebbia di un'altra puntata ma al sole in collina Rastignano villa unifamiliare su tre livelli piano terra piano primo una meravigliosa taverna e un giardino enorme sulla collina ok allora adesso andiamo a vedere quello che tu hai fatto e poi dopo ci ritroviamo qua e cominceremo a parlare di cosa fare in questa casa a dopo buongiorno oggi sono qui con Rocco Laddomada che ci ha portato in un meraviglioso contesto pedecollinare vicino a Bologna adesso mi faccio anticipare come anteprima quello che andremo a vedere successivamente ciao Rocco buongiorno in effetti ci troviamo fuori Porto San Mamolo a circa 9 km esattamente la località è Sabbioni vicino al monumento dei caduti Pieve del Pino per l'esattezza qui sono tutte ville quasi unifamiliari con dei grandi giardini in mezzo al verde grande tranquillità e pace comunque sarà la Silvia a raccontarvi di più sulla casa di cui parliamo grazie bene adesso alle mie spalle inizieremo questo percorso da qui è un accesso carrabile che ci porterà direttamente vicino alla nostra unità residenziale e al suo meraviglioso parco abbiamo lasciato Rocco e adesso ci troviamo all'interno della proprietà un ettero di verde diviso tra giardini e zona coltivata in particolare questo è il primo giardino quello che si trova all'ingresso dell'accesso pedonale della villa e alle mie spalle anche se non lo vediamo lo vedremo dopo con le immagini c'è un altro giardino a un livello inferiore un terrazzamento in cui si trova una meravigliosa piscina tutto questo circonda l'immobile che si trova alle mie spalle che adesso andremo a visitare ci troviamo al di sotto del porticato che dà accesso alla villa adesso entriamo nella zona giorno quindi seguitemi siamo all'ingresso della villa al piano terra alle mie spalle si apre il soggiorno meraviglioso luminoso in cui è presente un salotto di entrata di accoglienza con un camino e girando all'interno dello spazio accompagnato da questo pavimento in parquet posato in diagonale per dare maggiore ampiezza agli spazi che comunque in questo caso sono continuativi si apre ancora una zona pranzo un altro salotto molto accogliente nei toni sia delle pareti che dell'arredamento in questo caso e le pareti vorrei far notare come riprendono una finitura che abbiamo visto nelle puntate precedenti con Delisa direttamente in studio continuando il percorso arriviamo alla zona soggiorno la zona pranzo anche qui accompagnata da dei toni delle pareti particolari caratteristiche molto calde e ancora a chiudere la cucina la cucina ampia distribuita sui lati e un piccolo servizio che ora illuminiamo a conclusione del piano terra il collegamento agli altri piani avviene mediante due scale una scala a chiocciola posta nella cucina che accede al piano semi interrato ulteriore livello di questi immobili e dall'ingresso che ora andremo a vedere c'è la scala che ci collega al piano primo che stiamo per raggiungere la zona notte ci troviamo nel disimpegno del piano primo su questo piano si distribuiscono cinque camere da letto tre ampi bagni e una piccola lavanderia il disimpegno allora abbiamo detto che distribuisce le camere quindi partendo dal fondo abbiamo una camera matrimoniale alle mie spalle una camera singola all'interno della quale c'è la lavanderia seguendomi abbiamo a sinistra un bagno che con Delisa potremmo divertirci anche a rivedere un bagno alle mie spalle e per chiudere le stanze all'interno del disimpegno abbiamo un'altra piccola stanza anche questa singola adesso andiamo in un altro disimpegno sempre dello stesso piano che ci porterà alla distribuzione dell'altra parte della zona notte caratteristica di questo piano è l'utilizzo meraviglioso di tutti gli spazi anche le pareti che sembrano in realtà finite chiuse nascondono dei piccoli armadi o delle zone ripostiglio quindi in questo caso come diciamo caratteristica molto particolare è che lo spazio è completamente riempito di accessori in questa distribuzione in questo disimpegno abbiamo un'ampia camera singola che potrebbe anche essere doppia volendo particolare è il rivestimento in questo caso non abbiamo carte da parati ma abbiamo una pittura murale potremmo proprio chiamarla la tinteggiatura che abbiamo visto al piano terra viene riproposta in maniera ancora più artistica seguendo lo stesso percorso abbiamo il bagno dedicato alle due stanze di questa parte di disimpegno e un'altra stanza singola anche in questo caso la tinteggiatura delle pareti è particolare è personalizzata perché è un tipo di pittura che diventa protagonista dello spazio ci troviamo nella taverna l'ultimo livello di questo immobile fermiamo la porta e ci troviamo all'interno della sala sala distribuita nella parte centrale alle mie spalle una zona pranzo la cucina completamente arredata una camera da letto e un piccolo bagno questa taverna è raggiungibile dalla scala chiocciola che abbiamo precedentemente visto dalla cucina e da questa taverna si raggiunge direttamente l'esterno la zona del giardino che precedentemente abbiamo visto nelle parti superiore la parte del giardino terrazzato ma che adesso se mi seguite andremo a vedere anche nella parte inferiore siamo all'esterno della taverna quindi all'esterno di questo giardino meraviglioso in cui vorrei farvi vedere alcune caratteristiche dell'immobile innanzitutto alla base un rivestimento in pietra legato alla storicità dell'immobile stesso tutto l'immobile comunque vorrei farvi notare è stato recentemente ristrutturato 5-6 anni fa quindi è presente un cappotto che perimetra completamente l'edificio inoltre l'edificio è composto da allarme sia volumetrico che perimetrale doppi finestre zanzariere all'esterno abbiamo due posti auto scoperti e altri due che si trovano di fronte a me e in più adesso andremo a vedere una piccola chicca che è appunto la piscina di cui prima vi accennavo l'esistenza seguitemi chiudo il collegamento lascio la parola ad Elisa lasciandomi alle spalle il meraviglioso immobile i suoi giarrini la sua piscina e ringraziando Rocco Laddomada dell'Agenzia San Luca per questa nuova opportunità alla prossima abbiamo visto grazie a Silvia questa bellissima villa in collina e siccome è una villa ristrutturata da una decina di anni fa non ci sono tantissimi lavori da fare se non sostituire l'arredo rifare i bagni ma di questo poi parleremo con Silvia e vi proponiamo visto che comunque l'apparecchiatura elettrica è comunque da sostituire oggi insieme ad Umberto Gaiani salve buonasera che è il nostro la nostra azienda elettricisti di fiducia parliamo di domotica allora la domotica non ha niente a che vedere con i personaggi della Marvel chiariamo subito questo vero Umberto? d'accordo esatto bene allora cos'è la domotica? ma la domotica non è un'astronave è una cosa molto semplice bene è un modo di vedere l'impianto elettrico non a sé stante ma tutto legato costruito intorno come un vestito intorno alla casa intorno alla persona in maniera da servire proprio a tutto quello che serve per la casa però è anche un modo per far interagire l'impianto elettrico con le apparecchiature giusto? assolutamente tutte le apparecchiature interagiscono tra di loro quindi quando io ho un videocitofono il videocitofono non è solo il videocitofono è anche la tastiera dell'allarme è il monitor che mi permette di vedere una telecamera esterna queste cose qui allora vediamo di spiegare meglio ai nostri telespettatori perché la domotica è diciamo un argomento che si è affacciato negli ultimi anni per quello che riguarda ovviamente la grande richiesta e non la richiesta prima era una richiesta di nicchia molto di nicchia ora invece comincia a essere io stessa negli ultimi due anni ho avuto richieste in questo senso da parte di clienti mi sono rivolta ad Umberto perché su questo argomento diciamo che la domotica ci dà una grossa mano per quanto riguarda il risparmio energetico perché ci permette di gestire a livello non solo di riscaldamento quindi di termostro di temperatura ma anche proprio a livello elettrico ci permette di organizzare la giornata come luci come fasce orarie non accendiamo le luci quando non servono perché c'è già la luminosità non accendiamo il nostro video se in quel momento la tariffa oraria è alta si accende da solo in un altro momento quindi insomma ci dà una grossa mano quindi il nostro computer che governa tutto decide per noi come comportarsi se io alle 3 del pomeriggio fasce oraria di massima diciamo spesa dell'elettricità cerco di attaccare la lavastoviglia lui me lo impedisce lo posso fare solo portandolo dicendo no sono consapevole voglio far andare in questo momento se no lui mi dice no lo fai il signor domotica è risparmioso è risparmioso e noi se vogliamo spendere di più dobbiamo essere consapevoli esatto ok facciamo vedere questi apparecchi che hai portato così ce li spieghi ho portato qualcosa ma diciamo in pratica questo è un pannellino touchscreen che viene solitamente installato da qui si governa tutto l'impianto della casa io vado a cliccare sulle icone decido che cosa fare quindi se inseri l'antifurto se devi inserire l'antifurto lo stesso apparecchio quando suona il campanello si illumina mi fa vedere la persona all'esterno se voglio cambiare la temperatura nelle stanze nelle varie ambienti della casa lo faccio sempre attraverso questo pannello quindi da un unico pannello faccio tutto quindi nel caso di questa villa di Erastignano che è su più livelli noi possiamo gestire l'illuminazione l'allarme e il riscaldamento piano per piano stanza per stanza stanza per stanza sempre attraverso un pannellino come questo poi di questo se ne può mettere uno 10 quindi alla sera si va a letto abbiamo il dubbio di aver lasciato una luce accesa non dobbiamo scendere semplicemente lo gestiamo visualizziamo se c'è una luce accesa la spegniamo oppure diciamo il sistema inventiamoci uno scenario notte dove tutte le volte che vado in camera e spingo un pulsante automaticamente lo scenario della casa cambia e diventa uno scenario notte in cui si spengono le luci si attiva l'antifurto si accendono le telecamere esterne tutto in autonomia senza che io faccia niente devo solo dire al sistema che vado a letto quindi per gli smemorati cioè quelli che vanno a letto e dicono dunque ho attaccato l'allarme no scendo vado ad attaccare ho spento le luci non lo so cioè che passano la notte andare su e giù per le scale non ce n'è bisogno questo questo invece che cos'è? questo è un sembrerebbe un normalissimo videocitofono ha invece una particolarità che è la memorizzazione delle immagini delle chiamate fa sempre parte del sistema domotico sempre il touch screen non posso accenderlo ma insomma sempre il touch screen vado a controllare l'impianto come un ipad come quello come un ipad la differenza sta che quando qualcuno mi suona il campanello io non sono in casa questo memorizza chi ha suonato l'ora la faccia di chi di chi c'era quindi io quando arrivo a casa la sera vedo chi mi ha cercato come se fosse una segreteria telefonica una segreteria cito questa è una segreteria videocitofonica quindi il venditore di incipropedie quello sta fuori sta fuori e dice guarda è passato meno male che non ero in casa quindi questo sostanzialmente registra chiunque ci suoni il campanello esatto registra chi suoni il campanello oppure possiamo far registrare chi attraversa un'area in un certo momento all'esterno dove io non voglio che con un sensore con un qualcosa andrò a configurare l'impianto dire se qualcuno quando non ci sono attraversa quest'area tu me lo registri mi fai vedere chi attraversa quindi anche da antifurto assolutamente videocontrollo videocontrollo questo invece sono due frutti con la placca sì queste sono nuove soluzioni è un materiale di primissimo ordine forse il migliore che c'è fallo vedere bene alla telecamera certo primaria azienda italiana probabilmente anche questa è la migliore azienda italiana con finitura in vetro finitura in alluminio qualità molto alta cos'è questo? questo è un interruttore sì no ma questa cosa è un led giusto? questo è una serigrafia che può essere configurata per accendersi quando la luce è accesa può essere configurata per rimanere sempre accesa può essere configurata a seconda anche del colore che gli vogliamo dare a seconda dello stato che vogliamo in quel momento che ci faccia vedere il pulsante ecco per la gestione domotica delle luci c'è un numero di interruttori massimo per ogni frutto? diciamo che sì fisicamente esistono esistono dei limiti ma sono dei limiti molto più alti rispetto ai normali classici interruttori dove prima io avevo un interruttore che mi faceva incendere una cosa sola e portava via uno spazio adesso io quell'interruttore lo posso configurare per fare due o tre funzioni diverse a seconda di quello che io nel sistema domotico vado a dire siccome l'impianto me lo cuccio intorno come un vestito io allo stesso interruttore posso dire di fare una cosa diversa rispetto a cosa che prima non facevo sempre per essere molto semplici se io questo interruttore questo col quale diciamo con un impianto normale accendo solamente una luce esatto io posso decidere di fargli in un certo momento accendere una luce in un altro momento fargli accendere una lampada su un tavolino questo è quello che volevi dire più o meno sì premendo in punti diversi soprattutto quelli a sfioramento premendoli in punti diversi e poi sfioro non schiaccio no esatto sfioro e premendoli in punti diversi posso decidere di far accendere e spegnere tante cose se lo premo qua se sfioro qui succede una cosa se sfioro qui succede un'altra se sfioro qui un'altra se sfioro qui un'altra diciamo che un cliente decide di inserire la domotica nel suo impianto nel nuovo impianto nel nuovo impianto elettrico e ti dice io però vorrei solo la gestione dell'allarme delle luci quando vado a letto bene tu glielo configuri così poi dopo sei mesi un anno decide di aggiungere altre funzioni assolutamente gestite dalla domotica assolutamente l'impianto domotico è scalabile quindi parti da una base da lì poi vai avanti evolvi fai quello che vuoi ma è anche gestibile dall'iPhone è gestibile dall'iPhone dall'iPad ci sono le applicazioni sull'Apple Store si scaricano si configura e si fa quindi io sto via una settimana in inverno mentre torno a casa dalla montagna voglio accendere il riscaldamento posso accendere il riscaldamento d'estate posso accendere l'aria condizionata posso verificare quello che succede nel mio appartamento guardando dall'iPad o dall'iPhone le telecamere guardando la temperatura delle stanze se comunque gli ho messo un antigelo perché non gelino i tubi d'inverno posso accendere spegnere le luci posso dare il tiro al cancellino se ho il custode che deve entrare io sono via e ha perso la chiave do il tiro al cancellino e lo faccio entrare se ho il venditore di enciclopedia che lo faccio entrare me la lascia un attimo poi quando torno la guardo esatto anche volendo quindi allora la domotica cioè questo sistema può gestire gli impianti della nostra casa sia in remoto attraverso iPhone e iPad giusto assolutamente sia lavorando su una tastiera su alcuni touchscreen ci sono di diverse misure diverse dimensioni comunque questo è un po' più classico non è invasivo da un cliente me l'hai messa di una dimensione quasi come un iPad come un iPad sì esatto come un iPad ci sono anche più grandi hanno funzioni diverse però comunque di base questo è quello che si utilizza più di tutto quindi è un sistema molto interessante e potete gestire l'impianto d'allarme anche in remoto assolutamente come ha detto Umberto i costi rispetto a una percentuale diciamo una domotica basic in percentuale rispetto a un impianto elettrico normale quanto in più ci costa? è da sfatare il mito che la domotica costa tanto perché non è vero la domotica in realtà non costa di più di un impianto normale perché costa di più come materiale ma poi costa di meno come installazione quindi non c'è un vero e perché costa di meno come installazione? perché è molto più semplice perché non è fatta con i classici fili normali è fatta con un cavo come questo questo cavo qui passano tutti i dati di tutte le informazioni per tutti gli oggetti quindi una volta messo questo cavo quindi anziché tutti i fili che normalmente dovete infilare dentro i tubi corrugati che sono annegati nel muro tu infili solo questo e poi c'è da dire che in realtà spesso abbiamo già delle componenti domotiche all'interno della casa non lo sappiamo e quando l'abbiamo fatta non l'abbiamo fatta e dialogata tra di loro perché chi è che in casa non ha un digitopolo un impianto di allarme ormai quasi tutti ce l'hanno allora se lo stesso impianto invece che farlo che ognuno va per il contello lo fai la spesa è la stessa non ci sono delle spese in più poi è chiaro dopo se lo voglio gestire dall'iPhone se lo voglio gestire da fuori casa dovrò avere una connessione internet dovrò avere un gateway dovrò avere dei componenti che è chiaro che costano ma ormai anche quelli ce li abbiamo ormai tutti un router insomma non è che ci sia quindi tu dici se un cliente ha già fatto un preventivo per un impianto normale e aggiunge la domotica la differenza di costi è assolutamente in risoria tutto dipende dal fatto da che livello di domotica uno vuole arrivare diciamo base cioè la gestione dell'impianto d'allarme l'aspegnimento dell'illuminazione l'impianto d'allarme domotico non costa di più di un impianto d'allarme normale non c'è differenza un videocitocono non costa di più quindi è tutto lì poi chiaro cambiano queste cose questo è un prodotto che ha una qualità e un costo diverso da un impianto base io posso mettere anche un frutto normale assolutamente 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 allora Umberto io ti ringrazio sei stato molto prezioso perché questi sono argomenti molto interessanti anche perché la casa a basso emissione e a basso impatto energetico è anche dotata da un impianto di questo tipo che ci aiuta a gestire l'energia al meglio ti ringrazio tantissimo io ringrazio te ma figurati ciao buona serata ciao Umberto ciao allora adesso con Silvia abbiamo guardiamo i disegni che ha preparato vieni Silvia sì io farò vedere quello che abbiamo visto in maniera molto più colorata e molto più animata durante il sopraluogo tendenzialmente abbiamo questo meraviglioso giardino che avevamo intorno in cui si sviluppava un piano interrato che abbiamo visto essere un appartamento nel vero senso della parola anche se qui si capisce poco perché la pianta diciamo non è troppo arredata abbiamo un piano terra che lo giro a favore di camera un piano terra dove abbiamo visto un bellissimo ingresso con una libreria meravigliosa degli ambienti molto grandi nella sala un pavimento a parquet quasi in tutta la stanza in tutta la casa tranne che nella zona cucina poi mi ricordo assolutamente meraviglioso erano anche il trattamento che abbiamo fatto che abbiamo visto alle pareti un porticato che era antistante l'accesso al piano superiore si riproponevano le stanze le camere da letto dove c'era nuovamente il parquet tra l'altro un utilizzo del parquet quasi diciamo diverso sempre non a correre ma si riportava un po' a deluso del parquet di qualche anno fa a quadrotti giusto? a quadrotti meraviglioso due bagni molto grandi e se vogliamo andare a lavorare sul progetto per dare per rinnovare questa 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 villa possiamo diciamo puntare su quelle che è il rifacimento dei bagni la domotica la domotica i controsoffitti e la sostituzione delle scale esatto quindi a questo punto Delisa io ti do la parola lascio che il pubblico possa continuare a scoprire quelle che sono le novità che ci vuoi proporre bene allora a questo punto iniziamo a parlare di rubinetteria sanitaria e box doccia eccoci qua di nuovo con Paola buonasera ecco questa settimana è rimasta lei a casa mia a fare le pulizie no veramente hai mangiato anche da mangiare perché lei veramente ha mangiato anche lei come pellerano comunque andiamo ben avanti allora Paola oggi parliamo siccome abbiamo detto ha parlato del rifacimento dei bagni per cui hai portato rubinetti che vendete voi alla ditta Benuzzi e mobili da bagno e box doccia partiamo dai rubinetti mi hai portato due modelli allora abbiamo portato due modelli di rubinetti uno abbastanza squadrato e uno sullo snello abbastanza lineari sono tutti i rubinetti che possono essere sia a incasso per quanto riguarda i gruppi doccia e esterni per quanto riguarda lavabo per quanto riguarda il box abbiamo pensato di fare una parete in cristallo ti devo chiedere alcune cose dei rubinetti allora questo abbiamo detto forma più semplice forma più semplice molto esile minimalista questo un rubinetto molto più squadrato più importante rispetto a quello di questi rubinetti abbiamo tutta la serie che comprende questi sono quelli da lavandino da lavandino abbiamo poi il rubinetto per il bidet rubinetto incasso per la doccia e anche l'incasso per il lavandino perché adesso si usa molto anche mettere la rubinetteria da incasso a parete sopra il lavandino ecco in questo caso bisogna stare molto attenti al punto dove cade l'acqua perché altrimenti si apre il rubinetto è successo già a qualcuno e l'acqua finisce dall'altra parte del bagno perché esce dal lavandino quindi abbiamo tutta la gamma ovviamente questa azienda che è un'azienda italiana l'azienda della torre un'azienda delle marche e quindi come tipologia di rubinetti abbiamo anche quelli come andavano gli anni 50 in stile esatto e poi dopo per quanto riguarda il box doccia abbiamo messo un cristallo temperato di 8 mm con la garanzia di 5 anni molto semplice la ditta è questa la ditta è la relax che è un'azienda sempre veneta e abbiamo pensato di usare questo tipo di box in cristallo 8 mm pulitissimo senza profili quindi senza parete laterale senza parete laterale con entrata su questo lato a volte scusa Paola a volte i clienti chiedono ma esce l'acqua ovviamente dipende dalla lunghezza del box in questo caso il box è molto lungo quindi non c'è pericolo che l'acqua esca giusto l'importante è avere una parete la parete lunga che sia non so tipo oltre il metro e venti ecco ecco invece per mettere un box doccia normale noi possiamo usare un box in angolo semplicissimo ecco tipo questo sempre pulito senza profili un box di questo tipo più o meno quanto costa? può costare a grandi linee sui 650 euro quindi anche un costo abbastanza accessibile giusto? invece la parete che hai fatto vedere prima siamo sugli 800 euro per la parete in cristallo 8 mm era qui la wall adesso non la troviamo più comunque diciamo ecco questa era l'altra parete questa un metro e venti un metro e quaranta più o meno di lunghezza sugli 800 800 850 ok mentre l'altro box ad angolo sempre col vetro col profilo sottile sui 650 euro esatto ti ricordi anche il prezzo di questi rubinetti? questi rubinetti costano sui 1,49 euro e l'altro costa 65 euro ok quindi anche qui riusciamo ad avere un ottimo prodotto esatto anche di qualità italiana made in Italy come tutto il resto dei materiali che noi usiamo sempre noi ovviamente parliamo molto volentieri del materiale italiano esatto idem mobile da bagno allora aspetta che tolgo qui il catalogo dei box d'occia questi sono mobili che sempre avete voi in esposizione vendete in esposizione vendiamo un po' di calderara esatto quindi il piano è in tecnoril che è un materiale a base resina lavabile e dove scusa il lavandino qui è stampato il lavandino è stampato è incassato anche questo in resina quindi anche questa è una cosa molto comoda perché non c'è un lavandino appoggiato sopra quindi poi con lo sporco che si può andare ad unidare nei bordi ma è un materiale con stampato il lavandino immagino di molte forme diverse noi potremmo poi anche far benissimo un piano con un lavandino sopra piano d'appoggio in ceramica in quel caso adesso in questo caso noi abbiamo messo un top incassato cioè dello stesso piano sempre in resina lucida in questo caso che noi vediamo possono essere ecco tipo di questa colorazione questi sono i colori dei top o dei mobili o anche dei mobili questo è un piano e anche un mobile in HPL che è un tipo di traduci che l'HPL è un laminato un laminato a base resina con una percentuale di pigmenti e di argille anche un materiale brevettato chiaramente quindi molto robusto non si rovina resistente all'abrasione e non si rovina con l'acqua ecco oppure questi oppure questi sono in bimelaminico il bimelaminico è sempre una specie di laminato e assomiglia molto più a legno a emittazione legna questi mobili quindi non sono in legno ma sono in bimelaminato e in HPL ecco vedo anche che hanno delle gli interni possono essere contenitivi per tutto quello che riguarda il bagno e anche il trucco ecco sì perché noi signori ci tocchiamo abbiamo bisogno di tutti gli scompatti quindi forme qui vedo in questo catalogo forme molto diverse tra loro esatto quindi un'ampia gamma di di mobili vedo anche bellissime anche dei pensili anche vanno a giorno anche in cristallo oltre che in laminato come abbiamo detto fino ad ora un mobile da un metro e venti facciamo top un mobile da un metro e venti con il ripiano sotto laterale come abbiamo guardato questa composizione che è lungo un metro e venti adesso vi faccio vedere ecco tipo questo quando ce la trovi esatto ecco mettiamo anche una cosa del genere più questo sotto può essere sui 1600 euro circa ok sempre fatti in quei materiali in questi materiali di cui abbiamo parlato compreso il lavandino ovviamente compreso il lavandino che è incassato ok un metro e venti con i cassettoni sotto con i cassettoni sotto bene allora per i bagni della nostra villa di Rassignano ricordo sempre in vendita in esclusiva all'agenzia San Luca proponiamo la rubinetteria proponiamo tutto made in Italy la rubinetteria le torri qui sono due dei tanti modelli che loro hanno i mobili della ditta Archeda che è un'azienda del Veneto che sono mobili con un costo decisamente accessibile esatto e competitivo vista anche la qualità del prodotto noi che li abbiamo visti vero Silvia vieni qua che così mi aiuti a chiudere il discorso con Paola sono anche stimolata da questi mobili i bagni sono molto grandi quelli che abbiamo visto sono molto grandi e tutta la casa ce la ricordiamo colorata con questi color pastello che danno del movimento i bagni erano in un certo senso diversi quindi in questo modo noi riusciamo con queste venature aggraffiate un po' riusciamo a riportarci a quello che era ti ricordi a riprendere un attimo quelle che erano le pareti e tutto il viaggio cromatico che abbiamo fatto in questi due piani ecco perché una cosa molto importante della casa come giustamente dice Silvia è il decoro delle pareti il tinteggio delle pareti che è fatto con dei prodotti molto particolari simili a quello che due settimane due o tre due forse settimane fa vi abbiamo fatto vedere qui in studio ecco prima abbiamo parlato di impianto elettrico di domotica quindi ovviamente laddove si rifà l'impianto elettrico e si rompe leggermente il muro chiaramente l'imbianchino poi torna a riprendere e vista la tipologia della tinta si può riprendere perfettamente senza vedere nulla sì infatti tornando al discorso del made in Italy e del essere un po' artigiano in questo caso l'imbianchino deve essere un bravo artigiano il nostro Agostino è certo quindi un cuci scucci necessario fatto a regola d'arte ok quindi allora questi mobili tu li trovi giusti sì li trovo giusti perché li trovo leggeri li trovo essenziali ma come dicevo le superfici trattate in maniera molto simile a quello che è il contesto dell'immobile stesso ok allora Paola adesso ti salutiamo posso andare a casa dopo una settimana di permanenza in casa tua a fare la donna di servizio e la cucina non è vero che ha fatto la donna di servizio è stata qua a farsi abbiamo mangiato lasagne tortellini una settimana non ci siamo cambiate si vede no si vede che abbiamo lei non c'era e si vede noi invece lasagne tortellini perché Paola è una grandissima cuoca Paola grazie 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 e ci vediamo la prossima settimana non so se verrai tu verrà Michele la Carlotta insomma qualcuno della dita Benuzzi ci busserà la porta e verrà in trasmissione grazie arrivederci ciao Paola Silvia io adesso devo andare lo so lo so devi andare dai tuoi designer vero sì esatto perché tutte le settimane io un tuffo nel mondo del design lo devo fare quindi tu chiudi chiudi tu la puntata sì io adesso ho Ilaria con cui dobbiamo finire di parlare di questa video io parlerò dei designer perfetto ciao ci vediamo dopo chiamo Ilaria ciao bene parliamo in questo caso di scale parliamo delle scale che abbiamo visto durante il nostro sopralluogo in particolare le scale di collegamento dei vari piani e la piccola scala chiocciola che univa il piano terra al piano interrato Ilaria cosa ci proponi per alleggerire un po' da questi colori da questa distribuzione forse un po' pesante qualcosa di un pochino più leggero allora in questo caso proporrei sicuramente una scala realizzata o in acciaio inox con i gradini di cristallo o in ferro verniciato per diciamo tenere i costi un pochino più più bassi propongo il prodotto della Fontanotte che negli ultimi anni ha messo in lavorazione una collezione prettamente artigianale perché appunto utilizza una serie di artigiani che costruiscono scale fondamentalmente su disegno e su misura in base chiaramente alle esigenze del cliente in questo caso per esempio per la scala a rampa potremmo proporre questa scala che si chiama unica che è appunto una scala che ha un fasciame in acciaio inox e gradini in cristallo temperato se al cliente non piacesse la scala in vetro perché magari è un po' troppo high tech o perché ha dei gusti diversi possiamo proporre dei gradini in legno in questo caso abbiamo un rovere o addirittura dei gradini in bambù il bambù è un materiale estremamente durevole un materiale durissimo proprio adatto alla scala per quanto riguarda invece la scala a chiocciola rimarrei sempre sullo stesso stile proponendo magari una scala tutta completamente in acciaio inox chiaramente il costo sale però in questo caso abbiamo un prodotto assolutamente unico e che renderebbe l'ambiente molto molto particolare bene con questo argomento chiudiamo la puntata abbiamo visto anche oggi un altro immobile ancora diverso dai precedenti cercheremo nelle prossime puntate di darvi ancora delle nuove idee e soprattutto trovare degli immobili che ci possano dare lo stimolo per darvi delle soluzioni nuove e risolvere nuovi problemi di tipo sia distributivo che cromatico per l'utilizzo di nuovi materiali e andare avanti un po' con la fantasia per cercare di creare nuovi spazi io vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana e lascio la parola ad Elisa Noi amiamo regalarti il piacere di tornare a casa i nostri prodotti si identificano con i sogni e le passioni di chi li sceglie ceramiche benuzzi quando pavimenti e rivestimenti sono un esercizio di stile perché la casa è il racconto della nostra vita vesti la tua casa con le grandi firme italiane siamo in via del Maccabreccia 25B a Lippo di Calderara telefono 051 72 67 22 www.ceramichebenuzzi.it www.ceramichebenuzzi.it Sono scappata dallo studio lasciando Silvia a finire la rubrica mercato immobiliare e progetti perché volevo venire da uno anzi l'unico grande design bolognese che è Luigi Lanzi sono qua nel negozio di via Barberia 30 dove lui ha gli oggetti che progetta e produce qui ad esempio abbiamo lo smilzo che uno se lo vede così dice cos'è beh questa è un'opera d'arte in realtà è un'opera d'arte ma è anche un attaccapanni in questa versione in acciaio cromato adesso qui ecco vedete ogni gancio ha la possibilità di appendere due cose poi quando non si utilizza si richiude se ci riesco qui non ci riesco ma questo è un prototipo ecco quindi anche il basamento è molto bello essenziale e questo è un oggetto che ci risolve benissimo il problema dei cappotti negli ingressi poi abbiamo la libreria Ercolina qui nella versione nera credo che sia una nuova versione perché non l'avevo ancora vista ma poi lo andiamo andiamo a stanare l'anzi ce lo facciamo dire da lui quindi versione nera questi sono tre elementi sempre in metallo con qui è semplicemente piegato il metallo con questi montanti viene fissata parete Luigi adesso sta facendo un albergo a Berlino ha fatto dei lavori a Los Angeles ha fatto dei negozi a Berlino degli alberghi a Dubai per cui diciamo che beccarlo come si dice a Bologna non è esattamente facile ma io oggi l'ho beccato e dopo spero anche di farvelo vedere tornando ai suoi prodotti questa si chiama End ed è uno sgabello dove noi possiamo vedete infilare la mano e portarcelo in giro per la casa poi esiste anche sempre dello sgabello la versione rettangolare tutta di metallo io trovo queste cose assolutamente divertenti Luigi che è una persona molto ironica in ognuno dei suoi progetti mette anche quell'ironia che lo caratterizza e molti di voi che lo conoscono perché è un personaggio conosciutissimo in tutta Bologna sanno di che cosa sto parlando dopo aver visto l'unico sgabello al mondo che si solleva con una sola mano abbiamo la versione di Ercolina in da 30 cm e ovviamente il nome Ercolina prima non l'abbiamo detto ma deriva dal fatto che ha dei profili sottilissimi però è robustissima perché questo elemento da 30 cm porta 200 kg di libri ora invece abbiamo un pezzo completamente diverso è uno sgabello di metallo versione o bianca o nera può essere anche un comodino può essere uno sgabello da mettere in bagno con sopra gli asciugamani e questi sgabelli sono stati sino al 30 marzo al Mambo nella mostra Wandering Stars organizzata con il Museo Morandi sono seggioline sono tavolinetti i comodini hanno varie funzioni e anche in questo lo stile di Luigi Lanzi è assolutamente inconfondibile leggerezza pulizia e un grande amore per il design alla mia sinistra c'è una delle sue lampade che diciamo io adoro è questa lampada sempre in metallo rossa che è la rivisitazione della classica lampada resa minimalista dal genio di Luigi Lanzi sono scesa nella parte inferiore dello showroom di Luigi Lanzi dove ci sono come dicevo prima tutti i prodotti che lui progetta e produce qui sono seduti in una sedia che ha un nome particolare e nasce dal fatto che in milanese la sedia si dice cadrega e questa si chiama cadira perché è imbottita non ho capito il senso ma essendo Luigi un personaggio un po' folle sicuramente ci sarà un qualche senso recondito Luigi Lanzi prima di produrre la sua linea Officina Lanzi ha disegnato per flu e per agape sono due ditte molto importanti che voi tutti conoscerete poi appunto ha fatto la sua linea che si chiama Officina Lanzi e nella quale ha convogliato tutte le sue energie e la sua creatività Luigi non si vuole mai fare vedere perché anche se lo trovate spesso alla sera in giro nei locali perché è una persona che ama molto mangiare ama stare insieme con gli amici però ha questa forma in cui dice io non voglio comparire ma io non posso parlare di lui senza almeno farvelo vedere allora ci giriamo un attimo con la telecamera e lo vediamo allora sono stata appositamente in silenzio perché così anche chi magari non lo conosce di nome ma lo conosce di viso lo ha riconosciuto ora salutiamo Luigi ti ringrazio per averci accolto nel tuo showroom anch'io ringrazio te bene e ciao a presto salutato Luigi Lanzi adesso vi porto a casa di un altro personaggio creativo divertente un po' folle con una bellissima sorpresa oggi vi porto in via pietralata in una delle case più divertenti e belle di Bologna è la casa di un personaggio molto particolare che noi tutti conosciamo o per il suo nome e cognome oppure adesso vi dico una frase friccando poi entreremo e vedremo il nostro personaggio adesso io entro perché spero che lui mi stia già aspettando in questo luogo che vi divertirà moltissimo pulizia ordine e silenzio è la prima cosa che si vede entrando in casa del nostro amico friccando ovvero Maurizio Marzadori ciao Maurizio ciao buongiorno allora dovete sapere che Maurizio un personaggio che noi tutti a Bologna conosciamo uno dei più grandi regatieri che abbiamo in Italia si è creato questo luogo dando sforo alla sua follia creativa perché a casa lui ha quattro donne tre figlie e una moglie e quindi lui qua si è creato questo luogo per se stesso facendo delle soluzioni veramente meravigliose raccontaci un po' come hai fatto hai ristrutturato questo questo luogo ma intanto partiamo dal nostro rigatiere la deliria sono anni che si chiama il nostro rigatiere e sicuramente siamo anche rigatieri però poi facciamo anche della ricerca di pezzi di design per i nostri clienti quindi abbiamo tutto un vasto repertorio di design italiano secessione austriaca io non ti volevo sminuire lo sai che mi piace chiamarti regattiere tu sei un grande effettivamente adesso vendiamo tante cose arrugginite specialmente per il mondo della moda e per gli stilisti e quindi va benissimo infatti poi se voi vi guardate un po' attorno diciamo la ruggine non manca non manca certamente ad esempio nella scala allora questa questa scala io l'avevo accantonata da tanti anni proprio pensando a quando avremmo ristrutturato questo ambiente che inizialmente anticamente era la stalla del palazzo palazzo più antico di via Pietralata attorno al 6-700 successivamente diventò probabilmente un magazzino nell'800 era stato anche affrescato quindi ha subito varie trasformazioni e da magazzino com'era noi l'abbiamo diciamo trasformato in un loft benché un loft un po' sui generis tutto con materiali antichi di recupero sui generis come sei tu un po' sui generis sì ma tutto da interpretare allora va bene andiamo avanti quindi quindi abbiamo ho cercato di costruire utilizzando tutte le possibilità che ci venivano concesse dalle normative un ambiente piuttosto articolato pur completamente aperto abbiamo chiuso semplicemente la zona servizi e la zona cucina e il resto è un cosiddetto ambiente di tutta gioia un loft un loft un loft però non con materiali semplicemente con materiali industriali ma con materiali di recupero ad esempio si è fatto questo soppalco con quattro colonne di ghisa che vengono da un vecchio opificio le cose che vedete è che noi i materiali non li abbiamo trattati non li abbiamo restaurati cioè li abbiamo lasciati così come sono stati trovati questa è un po' la nostra filosofia del restauro sotto il soppalco vi hanno inserito un vecchio soffitto del 700 di recupero credo che venisse da un convento di suore così mi hanno detto quando è stato comprato e anche questo senza restauri feroci come si vedono a volte su certi mobili o su certi materiali quindi tu praticamente l'hai messo così come l'hai trovato o hai fatto una piccola pulizia no è stato fatto il consolidamento per evitare che si degradasse ulteriormente qui si vedono ad esempio delle parti quando era innestato nel vecchio soffitto in muratura qui ci sono dei vecchi no non vecchi questi sono travi nuovi che dovevano avere la portata è stato inserito e si vede come era uno lo può leggere in sostanza ma parlando di cose meno nobili i lavandini dei bagni pubblici non li vogliamo ancora adesso andiamo allora adesso proseguiamo in questa meravigliosa ristrutturazione che tu hai fatto dove in ogni angolo ci sarebbe da soffermarsi e andiamo a vedere invece il bagno dove tu hai utilizzato appunto i materiali di recupero fra cui i lavandini che vengono dai vecchi bagni pubblici della città quindi di Bologna di Bologna sì e la rubinetteria pure d'epoca infatti funziona malissimo ma qualcosa dobbiamo rinunciare continuo le manutenzioni un'altra cosa che a me piace molto perché io adoro la pastina è il pavimento in pastina e che è lo stesso anche della doccia sempre in pastina il rivestimento della doccia com'è? è sempre un rivestimento di materiali di recupero tipo un clink ma vecchio insomma adesso invece le porte della doccia cosa hai usato? erano porte di una vecchia officina che sono state lasciate così come sono state trovate inserite ed è bellissimo fare la doccia di dentro io ho avuto un periodo che sono stato qui nell'off di convalescenza per una caduta e veramente era un buon ritiro una meraviglia una meraviglia allora qui fa anche il coso ah beh quel radiatore meraviglioso quello dove lo hai recuperato ma penso che nonostante questa presenza di decori fiorati che venisse da un'officina anche quella allora adesso Maurizio siccome ti abbiamo preparato la sorpresa e io vorrei fare vedere ai nostri telespettatori quella foto che fa parte della sorpresa e poi andiamo al piano superiore perché io ho detto prima che tu sei circondato da donne e alcune delle tue donne sono venute qua e così vediamo insieme a loro di parlare un pochino male di te ecco siamo saliti sopra nel soppalco e qui abbiamo due delle figlie di Maurizio e un loro amico che poi vi presenterò Maurizio appunto contornato da donne che si è dovuto creare questo luogo per stare un po' in pace che poi secondo me gliel'avete rubato voi vero Laura? sì sì devo dire che è stato ne abbiamo preso possesso sì ci siamo più noi forse allora qui ne abbiamo solo due perché la terza non poteva lasciare la scuola oggi abbiamo Laura che è la più grande e che io ricordo alta così che ci suonava il violino alla fine delle cene Laura è una grande violinista appena vinto il concorso internazionale come violino di spalla alla scala sì ciao a tutti e Sara invece suona la viola studia a Salisburgo esatto studia a Salisburgo da quattro anni insieme al tuo amico Christophe giusto? sì da dove vieni Christophe dalla Germania bene abbiamo anche un ospite internazionale allora io ovviamente conosco Maurizio da una vita ci siamo conosciuti proprio per il mio e per il suo lavoro e poi ho visto crescere queste ragazze e sono molto orgogliosa perché fino adesso abbiamo fatto nelle trasmissioni abbiamo fatto una casa dio come eravamo con personaggi bolognesi molto importanti ma ovviamente che hanno già avuto una loro vita importante e qui mi piaceva a casa di Maurizio invece farvi vedere due ragazze che porteranno la nostra città nel mondo con la loro arte anche vostra sorella Irene suona e suona il violoncello giusto? suona il violoncello e ha cominciato anche lei prestissimo come noi e anche lei adesso studia a Salisburgo ovviamente non si è trasferita perché è piccolina però frequenta già i corsi di violoncello quindi sta già facendo un percorso molto brillante io lo chiamo regattiere lui un po' sarrabbia perché ritiene che sia sminuente però essere figlie di Maurizio Marzadori vuol dire avere una casa un po' creativa particolare sì però bellissima infatti devo dire che siamo state molto fortunate perché abbiamo sempre dormito ad esempio in letti bellissimi fin da piccole appunto sino ad adesso perché ci ha sempre trattato molto molto bene questo letto è un letto figlio del 1968 infatti è del 69 l'allabi di Poltrona Frau quindi pensare a Poltrona Frau che faceva un letto tondo sono sempre molto seriosi quindi era veramente rivoluzionale in effetti sì allora ragazze quindi Maurizio è un grande papà poi avete anche una grande mamma che non vuole comparire ma la saluto ciao Simonetta così siamo perfetti voi avete tutte e tre questo amore per la musica e siete tutte e tre lei è la più grande e quindi poi immagino che anche tu Sara e anche Irene poi diventerete delle grandi musiciste un giorno vi incontrerò per strada e vi darò del lei Sara quindi è bello vivere in questa casa in questo ambiente molto divertente vi ha anche molto stimolato per la vostra creatività giusto? sì era anche particolare per esempio avere una casa del genere poi andare a casa magari delle amichette più piccole vedere che la casa era completamente diversa cioè siamo state comunque molto abituate a vivere in un ambiente particolare a vedere comunque sempre un ambiente bellissimo insomma ha aiutato credo anche ha stimolato la vostra creatività anche questo è arte e quindi sicuramente ci ha molto ispirato bene io sono molto contenta di essere stata a casa di Maurizio ora mi alzo in piedi Christophe non ti ho chiesto qual è la città dalla quale vieni? Regensburg è la città del Papa Ratzinger prima ok quindi la città dove è nato Papa Ratzinger giusto? bene allora Maurizio ti saluto ciao ciao ti ringrazio di avermi accolta in questo luogo dove hai dato sfogo come abbiamo detto alla tua follia creativa devo dire che mi piace molto ti abbiamo fatto la sorpresa delle figlie spero ti abbia fatto piacere molto perché non è facile trovarle qui a Bologna insieme e quindi effettivamente è stata una bella sorpresa torneremo magari un'altra volta più avanti quando ci sarà anche Irene e con te Maurizio ci vediamo in sala borsa in una delle prossime puntate dove parleremo invece di design bene vi aspetto volentieri sarà una bella visita prima di chiudere voglio farvi notare questa lampada che è un'altra delle mie lampade preferite si chiama foglio e ovviamente della floss adesso io chiudo qui la puntata in questo meraviglioso luogo e ci vediamo con io abito la prossima settimana ciao a tutti da Delisa Merli ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in via del Maccabreccia 25B a Lippo di Calderara.